Buongiorno a Marta Dassù, direttrice della rivista Spenia, che faremo vedere adesso il numero poi in idicola e in libreria. Federico Fubini, firma del Corriere della Sera. Parleremo anche del suo libro molto interessante, L'Oro e la Patria. Benvenuto, bentornato a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. E vedo in collegamento Enrico Borghi di Italia Viva. Buongiorno. Buongiorno. E Luca Steinman, inviato di guerra, grande esperto, lo ricorderete, nelle lunghe dirette, i cento giorni di diretta del primo anno. Siamo a due anni, ai noi, della invasione russa dell'Ucraina. Ricorderete, inviato di guerra, giornalista. Ciao Luca, bentornato. Buongiorno. Allora, naturalmente i temi di oggi sono ancora legati all'omicidio di Navalny. Il video di sua moglie Giulia domina i siti, ma anche ovviamente oggi i quotidiani. Il video con cui si capisce che raccoglie il testimone e continuerà la battaglia di Navalny. Ma la foto alle mie spalle racconta anche un momento bipartisan importante che c'è stato ieri a Roma con la manifestazione proposta da Carlo Calenda, lanciata da Carlo Calenda, questa fiaccolata, e che ha raccolto tutte le forze politiche, non tutti i leader. C'è stata qualche polemica, qualche fischio rivolto al capogruppo della Lega Romeo, ma anche la Lega c'era, partecipata a questa manifestazione. E parleremo anche di questo. E intanto chiedo subito a Nicola Fratoianni che c'era, nonostante qualche articolo oggi un editoriale di Stefano Folli abbia detto e analizzato il fatto che non c'era, invece c'era anche Sinistra Italiana. Sì, c'era Angelo Monelli, Alleanza Verdi Sinistra, l'avevamo detto subito. Mi è parso giusto, doveroso esserci. Quello di Navalny è un omicidio, un omicidio di Stato, come sempre quando un regime autocratico rinchiude qualcuno per le sue idee e poi qualcuno non esce vivo dalle sue carceri. Ed è giusto, era giusto essere in quella piazza per non solo condannare quello che è accaduto, ma rivendicare la necessità che chiunque e ovunque possa esprimere liberamente le proprie opinioni senza per questo essere né incarcerato né tanto meno privato della vita. Enrico Borghi, chiedo anche a lei un primo commento, poi analizzeremo meglio, però ci tenevo a partire da questa foto anche che è alle mie spalle sulla manifestazione. Sicuramente è stato un momento importante di unità, al di là delle sfumature che, voglio dire, in democrazia se vengono ricondotte in un alveo di concordia istituzionale di rispetto dei valori fondamentali, sono un elemento di arricchimento. Credo che ci sia una diffusa consapevolezza del fatto che l'omicidio Navalny non sia il frutto dell'impazzimento di una singola persona, ma sia la risultante finale di un regime autocratico che fa della prigionia, dell'assenza di libertà, del controllo occhiuto di tutti i poteri, della restrizione degli spazi e delle opportunità, il proprio elemento strutturale. Quindi per capire quello che sta accadendo bisogna andare al fondo della natura, di quello che è un regime a tutti gli effetti e credo che ieri sera dietro quelle fiaccole ci fosse la luce della libertà, dei valori dei diritti umani, che è il pilastro su cui si regge non solo il nostro paese, ma la nostra Europa e più in generale l'Occidente. Questo credo che i cittadini lo abbiano capito bene. C'era anche Marta Dassù alla manifestazione ieri, a questa fiaccolata. C'era parecchia gente, devo dire. Si vedeva anche il colpo d'occhio, la foto dall'alto lo rivela, però glielo chiedo perché ovviamente sono i rappresentanti politici, però anche che si senta appunto che anche ci sia un elemento di partecipazione nella società civile, cosiddetta, mi sembra... Infatti era anche organizzato così in un certo senso, perché poi ha parlato il sindaco e alcuni rappresentanti dell'opposizione russa in esilio e questo è uno dei problemi che pone il caso Navarne, il tragico caso di Navarne, e cioè il fatto che sia diventato quasi impossibile fare un'opposizione all'interno della Russia per i rischi personali che questo comporta, lo si è visti. Mi chiedo per esempio se Giulia Navarne, che prende il testimone, ieri ha fatto questi due, un video prima del Consiglio europeo, poi ha partecipato del Consiglio europeo. Lo vediamo il video, naturalmente. Prende il testimone, ma credo che anche per lei sarà molto difficile stare in Russia. È un sacrificio enorme, fino al sacrificio della vita. Allora, vediamo il video di Giulia Navarne, ieri che è arrivato anche durante il Consiglio europeo dei ministri degli esteri, dove lei si è collegata e quindi è stato un elemento importante. Poi lo analizzeremo meglio, però vediamone una parte sottotitolato, naturalmente. Buongiorno, sono Giulia Navarne. Oggi, per la prima volta su questo canale, voglio parlarvi. Un'altra persona dovrebbe essere qui al mio posto, ma questa persona è stata uccisa da Vladimir Putin. Da qualche parte, in una colonia penale nell'estremo nord, oltre il circolo polare artico, dove l'inverno non finisce mai. Putin non ha solo ucciso Alexei Navalny. Voleva uccidere una persona, insieme alle nostre speranze, alla nostra libertà, al nostro futuro. Sappiamo esattamente perché, tre giorni fa, Putin ha fatto uccidere Alexei. Lo condivideremo con voi presto. Ma la cosa più importante che possiamo fare per Alexei e per noi stessi è continuare a lottare. Io terrò viva la battaglia di Alexei, continuerò a battermi per il nostro paese e vi esorto a stare al mio fianco per condividere non solo l'immenso dolore che ci ha travolti e che non se ne va, ma anche la furia. La furia, la rabbia, l'odio per chi ha osato uccidere il nostro futuro. Mi rivolgo a voi con le parole di Alexei, in cui credo. Non è imbarazzante fare poco, è imbarazzante non fare nulla, è imbarazzante lasciare che vi spaventino. La Russia libera, felice, quella Russia bellissima del futuro che mio marito tanto sognava. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, questa è la Russia in cui voglio vivere. Voglio che ci vivano i miei figli e di Alexei, voglio costruirla con voi, esattamente come Alexei Navanni se la immaginava. Solo così, e in nessun altro modo, il suo incredibile sacrificio non sarà stato vano. Combattete, e non arrendetevi. Io non ho paura, e voi non dovreste avere paura di niente. Tutto quello che basta al male per trionfare sono persone per bene che non fanno nulla. Per questo non dovremmo restare fermi. Allora, chiedo subito a Luca Steinman un commento rispetto a questo video. Come può essere preso, immagino non sia stato inaspettato questo tipo di reazione in Russia per Putin. o secondo te invece c'era la possibilità di pensare che moglie e eventualmente la figlia non raccogliessero questo testimone? Ma io penso che fosse, che si sapesse, già da diversi anni, ormai Giulia Navannaia era apparsa il suo marito anche pubblicamente prima di tornare a Russia per venire immediatamente arrestato. Quindi la coppia lei era già una coppia pubblica e lei inevitabilmente raccoglie questo testimone. Io penso che questo tipo e la figura di Giulia Navannaia abbia un peso molto riservante perché gli occhi della Russia in questo momento sono puntati verso l'Occidente, sono puntati verso l'Europa e quindi anche verso colui in Europa si schierano contro la Russia. È molto interessante vedere come la Russia come lei che non sia concepente in questo momento la guerra verreggiata che si sta dipattendo in Ucraina come uno strumento di influenza in qualche modo anche di quello che avviene da noi. Ovvero lanciare verso la guerra dei messaggi politici per poi ottenere qualcosa che vada secondo il crempino nella propria direzione e nel proprio interesse. Di questo, se volete, possiamo parlarvi proprio di talmente. Però ecco, sicuramente la figura di Giulia Navannaia è molto importante oggi perché raccoglio di coloro che sono al di fuori della Russia e di una parte di coloro che sono al di fuori della Russia e che si schierano contro il governo di Putin e naturalmente il governo di Putin si schiera contro con forza e con violenza e per gli apulisti. Allora, chiedo alla regia se si può migliorare l'audio perché c'è un... siccome sono importanti le cose che dice Luca Steinman e allora intanto volevo chiedere però quindi ci sono tante domande ancora da fare però volevo chiedere anche a Federico Fubini perché oggi proprio è Correa della Sera con un pezzo di Marisio ma tu ieri hai intervistato un altro dissidente russo che ancora diciamo è comunque attenzionato però fortunatamente non ha ancora avuto questo trattamento però mi ha colpito in questo pezzo di Marisio leggere un ex consigliere considerato un falco di Putin che si chiama Markov Sergei Markov abbiamo visto intervistato altre volte su altri argomenti che dice il corpo di Navalny non sarà mai consegnato a esperti occidentali come chiede la sua famiglia quando fu mandato a Berlino per curarsi improvvisamente venne scoperto che il suo stato di salute era colpa del Novichok e non del coma diabetico che gli era stato diagnosticato all'inizio falsificazioni irrabbiose dalle quali ci difendiamo tacendo questo è palesemente una menzogna quasi non c'è neanche bisogno di commentarla perché è del tutto evidente che Navalny è stato sicuramente avvelenato nel 2020 e ucciso vedremo come adesso tanto è vero che non stanno rendendo il cadavere alla famiglia ci sono varie considerazioni da fare ne faccio una senza poterla provare Navalny è morto giorno su giorno nel 17esimo anniversario del discorso che Vladimir Putin fece alla conferenza sulla sicurezza di Monaco in cui gettò la maschera in cui dimostrò che la sua Russia sarebbe diventata una potenza revisionista dimostrò tutto il suo risentimento verso l'Occidente il desiderio di rivedere le frontiere della Russia riviste dopo la fine dell'Unione Sovietica e diciamo per chi conosce il sistema 1, 2, 3, 4, 5 va bene intanto ci stiamo rassicurando che Luca Steinman funzioni l'audio mi sembra adesso controllatelo ancora meglio per esempio leggendo libri come gli uomini di Putin di Catherine Bolton che conosce molto bene che ha ricostruito tutta la vicenda di Putin dall'inizio si vede che lui e il suo mondo sono ossessionati dalle ricorrenze e dunque la mia domanda non può essere un'affermazione con certezza e se questo omicidio perché evidentemente di omicidio si tratta non si sia voluto far accadere esattamente nell'anniversario del discorso di Putin per dare un messaggio in parte un dono al capo e in parte una dimostrazione del capo che la sua visione malata perversa criminale si sta affermando Marta Dassù però aggiungo un'altra domanda perché nel dibattito pubblico italiano oggi per esempio un editoriale di Marco Travaglio però naturalmente allude al tema però proprio a distanza dalle elezioni in realtà a Putin non conveniva eliminare un oppositore e quindi questa domanda giova come dire che sembra però come dire non negare ovviamente questo non lo fa neanche Travaglio ma inserire come un elemento di dubbio si che è tipico sempre delle tesi un po' dietro logiche sono più d'accordo con Federico Fubini è il capo che afferma il suo potere assoluto tanto più invece secondo me a differenza di quello che dice Travaglio in una fase pre-elettorale in cui fondamentalmente è uno dei timori di Putin che vuole avere una specie di referendum su se stesso un trionfo assoluto con un ulteriore mandato effettivamente Putin a questo punto avendo rivisto la Costituzione può restare al potere fino al 2030 è andato al potere nel 2000 quindi abbiamo un quarto di secolo della Russia dominato da questo uomo insomma la paura poteva essere il timore poteva essere che Navalny in uno dei suoi tanti messaggi dicesse ai russi di andare a votare un altro nome sulla scheda eccetera eccetera naturalmente poi i risultati delle elezioni russe sono assolutamente inesistenti in qualche modo però insomma poteva esserci un segnale proprio in una fase in cui per Putin si tratta di consolidare questo successo dal suo punto di vista assoluto e cioè la presa totale interna da un lato e dall'altra alcuni progressi in Ucraina importanti quindi secondo me no direi l'opposto di quello che ha scritto Travaglio Nicola Fratoianni intanto se questo abbiamo sentito anche ieri delle posizioni molto nette anche di Elish Line sull'invio delle armi una dichiarazione che ha fatto anche lì alla fiaccolata come una necessità di aiutare in questo momento c'è la riluttanza americana c'è l'Europa che diciamo è divisa anche se mi sembra che a fronte di questo caso si siano e anche con una grande paura che hanno le Repubbliche Baltiche invece ci sia una come dire perlomeno dei segnali di aiuto allora chiedo se c'è un effetto anche sulla sinistra che non è avete votato non a favore del decreto armi se questo può cambiare qualcosa no in nessun modo per molte ragioni di cui forse è utile discutere perché diciamo questa vicenda pone credo alla politica europea italiana si dice genericamente occidentale non vuol dire moltissimo anche alla luce di quello che potrebbe accadere negli Stati Uniti tra qualche mese pone un problema molto serio che succede alle democrazie nel mondo perché la mia impressione è che lo stato di salute della democrazia nel mondo non sia proprio tra i migliori e che ci sia invece una crescita delle autocrazie delle tentazioni autocratiche dei tentativi di colpire limitare ridurre la democrazia anche laddove formalmente diciamo resiste come modello istituzionale dall'Ungheria di Orban nel cuore dell'Europa stiamo parlando di un paese che partecipa a tutti gli effetti come osservatore come candidato alla Russia di Putin naturalmente alle potenzialità di un ritorno di Trump anche qui non dentro l'idea di un intervento che immediatamente modifica gli assetti formali istituzionali della democrazia americana ma che ne torce in una certa direzione poi la sostanza e potremmo continuare a lungo basta pensare a che succede nella Turchia di Erdogan o a quello che potrebbe succedere in alcuni paesi europei se alcune forze politiche guadagnassero il potere non mi dirò mi pare questo un grande problema perché se noi discutiamo di questa questione con questo sguardo complessivo alla politica restano due cose possibili o pensare che di fronte ad ogni autocrazia perché quella di Putin è un'autocrazia terribile Putin peraltro è un uomo che io ascrivo alle destre europee e internazionali per cultura politica per quello che ha sempre fatto quindi è un mio avversario nettissimo anche prima dell'invasione in Ucraina ma se noi pensiamo di rivolgersi all'autocrazia in giro per il mondo con le armi il mondo va semplicemente a sbattere a essere un'autocrazia conquista perché poi si arriva sempre a questa obiezione è pieno di autocrazie che conquistano invadono di governi diciamo che fanno strame del diritto internazionale mica noi abbiamo mai utilizzato le armi per difendere i palestinesi dagli israeliani mai dall'occupazione ma abbiamo mai dato le armi ai palestinesi per difenderli dall'occupazione israeliani no domanda però molto importante ai kurdi abbiamo mai mandato le armi perché allora io pongo una questione di fondo primo basta con il doppio pesismo perché è una cosa insopportabile la retorica dei valori fondata sul doppio pesismo è insopportabile perché chiunque richiami i valori occidentali dovrebbe spiegare a me che vengo talvolta accusato in modo un po' ridicolo di essere amico di punti per le ragioni politiche di prima perché noi abbiamo in Erdogan un fedele interlocutore nonché alleato della Nato uno che fa strame dei diritti dentro il suo paese e che devasta un popolo con le armi anche vendute dagli italiani diciamo e dai nostri mercati aggiungo il punto è molto semplice rispetto all'Ucraina io faccio una domanda a tutti i sostenitori dell'invio delle armi che mi hanno spiegato per un anno e mezzo che servivano per costruire un equilibrio necessario di aprire la trattativa che cosa è successo due anni dopo una strategia fondata esclusivamente sull'invio delle armi priva di una capacità di iniziativa diplomatica quello che succede sul terreno sul terreno è che l'iniziativa diplomatica è scomparsa la guerra continua continua anche temo temo con risultati anche militari non eccellenti temo perché non è diciamo ciò che spero io credo che sia arrivato il momento almeno di segnalare qualche criticità e di dire forse bisogna fare qualcos'altro un momento volevo far rispondere Borghi prima così siamo su un terreno politico naturalmente e poi andiamo nell'analisi c'è anche Steinman prego Enrico Borghi è d'accordo con questa impostazione ma guardi io faccio una domanda semplice ma dopo l'omicidio Navalny che ha ulteriormente svelato la natura strutturale della dittatura putiniana che cosa deve accadere ancora per comprendere la natura la traiettoria e l'obiettivo di quel sistema autocratico e per farci capire che se noi non difendiamo il concetto basilare del diritto internazionale che è quello che dopo il dramma della seconda guerra mondiale non è accettabile in alcun modo che i confini vengano modificati inviando armi eserciti e provocando morte se noi non difendiamo questo principio noi semplicemente abdichiamo alle ragioni fondative dell'Unione europea e anche ai valori della nostra costituzione che stabiliscono che uno Stato ha il diritto di difendersi quando viene attaccato e peraltro mi faccia dire in una logica dialettica nei confronti dell'amico Fattoianni che sono certo non è putiniano che cosa c'è dopo due anni c'è che l'Ucraina esiste ancora perché se noi non avessimo sostenuto l'Ucraina semplicemente l'Ucraina non sarebbe esistita più e noi avremmo avuto Putin a una distanza inferiore che c'è tra Leopoli e Trieste e una distanza inferiore tra Trieste e Palermo e un'espansione della Russia conculcando i diritti e le libertà fondamentali dell'Ucraina avrebbe inevitabilmente un effetto domino su quella polveriera che si chiama Balcani che è alle nostre porte allora se noi non difendiamo i valori fondamentali del diritto internazionale questa è anche la risposta che lei dà al tema diciamo del doppio pesismo perché frato gli anni ne fa una questione di carattere generale però l'obiezione è l'interesse nazionale il contrario del diritto internazionale è il ricorso alla clava no Borghi il diritto internazionale è stato inventato per evitare il ricorso alla clava appunto Borghi ma io sono d'accordo con te infatti ho detto lasciamo stare per carità di patria perché usare il diritto internazionale come alla carta non funziona e siccome questo è un mondo che funziona così e sarebbe l'ora di riconoscerlo una volta per tutte è sempre funzionato però bene Marta Dassu ha ragione però è bene dirlo perché questo è fondamentale nella costruzione della narrazione perché la tesi adesso è un'altra il punto è un momento però se posso dire un momento no no è molto chiara la prospettiva fra degli anni io ho soltanto un problema che devo andare no che devo andare in pubblicità quindi pubblicità spero Luca Steinman può rimanere spero anche dopo la pubblicità restate con noi allora di nuovo in diretto c'era Federico Fubini l'avevo interrotto voleva replicare la tesi di Nicola Fratoianni non sono come dire sono semplicemente un giornalista non sono un politico però come giornalista devo dire che quello che Fratoianni auspica sta in realtà accadendo gli occidentali non stanno armando l'Ucraina sicuramente non la stanno armando a sufficienza l'Ucraina sta perdendo sul terreno e se continueremo a fare come Fratoianni auspica l'Ucraina sarà travolta sicuramente sarà travolta in tutta la fascia del sud e fino a Odessa Putin non ha mai fatto mistero di non volersi fermare è partito negando il fatto che l'Ucraina sia uno stato indipendente lo sta dimostrando sul terreno dunque quello che lei auspica non diamo le armi vediamo le conseguenze le conseguenze che l'Ucraina se continua così non ci sarà più sarà stato azzerato come paese indipendente al costo di centinaia di migliaia di morti questo sta succedendo e si sarà stabilito il precedente che i confini e il diritto alla libertà dei popoli si stabilisce nel continente europeo con la forza allora io non voglio fare un discorso di principi perché credo totalmente nella sua buona fede nel suo impegno di difendere i principi democratici come ha dimostrato andando alla manifestazione di Navalny voglio fare un discorso più brutto tra virgolette un discorso di interessi noi dobbiamo sapere che creare questo precedente che è un precedente sostanzialmente di natura hitleriana quello che Hitler faceva con la Cicoslovacchia con la Polonia e voltarci dall'altra parte significa la fine dell'Unione Europea perché noi ci siamo impegnati a difendere questo popolo impegnati a difendere le nostre frontiere e Putin ma basta sentire l'intervista che ha fatto a Tucker Carlson qualche giorno fa ha già iniziato a negare il fatto che i paesi baltici abbiano diritto alla loro indipendenza ha detto che l'impero zarista dunque la Russia era in parte del territorio che oggi è della Polonia dunque sta dicendo di questi paesi esattamente quello che diceva dell'Ucraina nel 2021 esattamente lo stesso e io credo che noi non abbiamo diritto a non prendere sul serio quello che dice Putin perché non lo abbiamo fatto in passato e quello che Putin ha detto lo ha sempre trasformato in centinaia di migliaia di morti io vorrei chiedere a Luca Steinman Luca su queste diciamo sulle mire di Putin e anche alla luce di questo caso Navalny e nel quadro delle elezioni europee nel quadro dell'attesa di queste elezioni americane della speranza di un cambio di linea da parte di Putin se vincesse Trump come tu insomma che conosci quel mondo sei stato anche proprio hai seguito la guerra e anche su quel fronte lì come come la vedi questa fase della guerra dunque come è corretto come si diceva prima che la Russia sta avanzando dobbiamo però sottolineare che le avanzate russe sono molto piccole molto contenute e vanno a conquistare veramente piccoli centri piccoli villaggi non stiamo assolutamente assistendo a uno spondamento dell'Evino Ucraina è per questo che dicevo prima che quanto avviene sui campi di battaglia agli occhi del Cremlino ha in realtà soprattutto un significato politico più che militare ovvero comunicare all'Occidente comunicare all'Europa che nonostante i rifornimenti di armi dice Putin appunto all'Ucraina la Russia è in grado di avanzare sì quasi di nulla ma comunque di avanzare o perlomeno di impedire all'Ucraina di riconquistare i territori perduti quindi il messaggio che la Russia vuole lanciare all'Europa in vista europea agli Stati Uniti e alla Germania dove ci saranno a settembre delle importanti elezioni è non date armi all'Ucraina perché anche se voi continuate a rifornire queste armi non avranno il risultato sperato perché noi non stiamo arretrando ma anzi stiamo avanzando ripeto avanzate spesso molto insignificanti ma che hanno invece un grande significato agli ordini di Camplino dal punto di vista politico ma c'è uno spazio per una trattativa perché questo comunque è un tema importante e anche nell'analisi che faceva Fratoianni cioè c'è lo spazio per la trattativa oggi in che direzione visto dalla Russia Putin sta dicendo esattamente questo l'ha detto anche l'ha fatto capire nell'intervista attacchi al caso vuole sedersi alle eventuali trattative partendo da una posizione diplomatica di forza che si determina anche attraverso quello che ha avuto i campi di battaglia dicendo quindi qualora ci sedessimo a trattare per uscire da questa guerra beh io Putin che in questo momento sto avanzando sto vincendo posso sedermi con il coltello dalla parte del manico Marta Dessun posso aggiungere lui si è insomma si è annesso illegalmente secondo il diritto internazionale di Nicola Fratoianni quattro regioni dell'Ucraina in cui si voterà il 16-17 marzo questo è già una dimostrazione del fatto che le elezioni russe sono ridicole si vota appunto in province che non appartengono alla Russia io sono una via di mezzo per così dire fra le tesi di Luca e di Federico Fubini cioè è vero che la situazione sul campo di battaglia è molto più controversa nel senso che la Russia è riuscita a recuperare qualcosa ma molto poco ha recuperato 8 km di un fronte di 1500 km che è stato per un anno più o meno congelato credo che l'idea di Putin sia anche di vedere come vanno le cose negli Stati Uniti perché è chiaro che la trattativa fondamentale sul piano diplomatico dal punto di vista di Putin è soprattutto con Washington e quindi la mia idea è che lui aspetti le elezioni americane in realtà in novembre come sappiamo perché pensa di poter contare sulla sponda di Donald Trump quindi io credo che ancora per qualche mese noi avremo a che fare con questo va e vieni del fronte del fronte ucraino in una situazione in cui c'è questa stanchezza occidentale che tu prima dichiaravi fino a un certo punto però perché secondo me io sui 60 miliardi di dollari che il congresso americano tiene in ostaggio perché appunto non riesce a decidere sono molto incerta secondo me non è escluso che alla fine l'America ce la faccia i repubblicani alla fine accettino di sbloccare in particolare dopo il caso Navalny ma in generale insomma è veramente l'America ha speso parecchio così come gli europei 75 miliardi di dollari finora credo che buttare al vento questo investimento iniziale sia assolutamente follo finché non lo vedo veramente non ci credo gli europei hanno dei problemi di produzione delle munizioni ed è questo scarto quantitativo fra le munizioni della Russia e le munizioni dell'Ucraina che appunto ha determinato prima uno stallo e poi l'impressione di un recupero russo che però è limitato sono molto d'accordo con Luca su questo che almeno non c'è una vera offensiva della Russia c'è un un mini recupero in una città abbastanza importante ma non c'è perché non sono in grado di farlo perché non sono in grado di farlo nonostante abbiano convertito la loro economia non sono in grado di farlo a meno che non decidano una mobilitazione militare che per ora Putin non ha voluto fare adesso non so se dopo le elezioni in Russia questa è una domanda che possiamo fare a Luca ma senza una mobilitazione ulteriore Putin non può fare un'offensiva maggiore Luca è così? Sicuramente è vero che Putin ha bisogno di uomini ma che dal punto di vista politico non è il momento in cui chiederti alla Russia ed è per questo che per esempio il Cremlino ha parato recentemente delle leggi per favorire l'arrivo di persone dall'estero per combattere nella guerra dell'Indra in chi oggi combattere tra i chi si aggrega l'esercito russo e quasi immediatamente la città di Tanzania e tutta una serie di privilegi per poi l'Italia si è avuto quindi sicuramente i segnali sono assolutamente da parte del Cremlino di continuare questa guerra meno fino alle elezioni americane è una guerra che va avanti una guerra in cui ci sono piccole conquiste la Russia non è riuscita come dicevamo prima a sfondare su tutta la linea la città che ha conquistato recentemente a Fiepica che si trova a ridosso di Daniezia io ricordo che l'offensiva per prenderla era partita nella primavera del 2022 quindi ci sono messi c'è avuto due anni per conquistare una decina di chilometri ma ripeto questa guerra non viene pensata a mettere soltanto sul piano militare ma anche sul piano politico guardate che noi stiamo avanzando avremmo conquistato un paio di chilometri ma stiamo avanzando e sul piano negoziare il Cremlino questo fa pesare Enrico Borghi vorrei tornare alla fiaccolata e al momento diciamo di unità nazionale che si è registrato ieri nel Campidoglio perché è vero è stato un momento di unità però ci sono stati i fischi al capogruppo della Lega Romeo ci sono state anche degli approcci diversi anche dentro la manifestazione perché per esempio sia da parte della Lega di Romeo sia da parte di un esponente 5 Stelle Barbara Floridia diciamo non è stata espressa la certezza che si sia trattato nel caso di Navalny di un omicidio ma c'è la formula bisogna attendere bisogna capire eccetera e poi c'è il tema dei leader che non sono andati non c'era Matteo Renzi c'era Nicola Fratoianni dobbiamo ricordare oggi c'è c'è questo tema ma per esempio non c'era Matteo Renzi non c'era Giuseppe Conte e quindi insomma e non c'era Matteo Salvini naturalmente quindi chiedo un po' a lei queste differenze se dobbiamo leggerle in filigrana se costituiscono un problema o se invece magari appunto l'importante è che ci fossero le delegazioni ecco Matteo Renzi aveva un impegno già precedentemente fissato e noi come Italia Viva siamo stati presenti con una nostra delegazione anche di alto profilo e mi permetta di dire che insieme con più Europa siamo stati la prima forza politica a presentarsi in via Gaeta con un mazzo di fiori per ricordare Navalny abbiamo chiesto con una mozione al Consiglio Comunale di Roma di cambiare l'intitolazione della via dove c'è l'ambasciata russa che attualmente si chiama via Gaeta dedicandola per l'appunto Navalny quindi da questo punto di vista la nostra posizione è molto precisa e indiscutibile per quel che riguarda invece i casi a cui faceva riferimento i fischi a Romeo è evidente che dietro le posizioni della Lega del Movimento 5 Stelle si tradisce sempre una certa nostalgia verso una stagione giallo-verde di un governo che subiva la fascinazione di un modello che oggi si dimostra per quello che è con i frutti grammi di cui stiamo tirando le conclusioni ma mi faccia dire che ancora pochi giorni fa se non sbaglio due giorni fa in un'intervista alla stampa Giuseppe Conte ha usato un lessico che per alcuni aspetti è piuttosto sorprendente perché ha parlato dei Bricks come la base per la costruzione di un nuovo ordine mondiale che anche lessicalmente sono le parole che Lavrov utilizzò nel 2023 quindi il suo ghostwriter non è stato particolarmente fantasioso ma se si immagina che il futuro e il destino dell'Italia sia il percorso dei Bricks nel quale significativamente vorrebbe entrare il Venezuela e quindi si immagina che il nostro destino sia quello di diventare il Venezuela del Mediterraneo ho l'impressione che andiamo decisamente fuori traiettoria bisognerebbe comprendere che il nostro destino e il nostro futuro sono gli Stati Uniti ed Europa e non la rincorsa a questi modelli Nicola fra tu gli anni su questi diciamo rimangono effettivamente degli echi giallo-verdi o insomma se ancora c'è l'influenza di questi rapporti oggi in vari pezzi si capisce che la Lega dice un conto era prima tutti erano diciamo in rapporto con Putin un conto è adesso e abbiamo però c'è anche Conte se lo mettevano anche addosso con le magliette quindi su questo hanno da insegnare che si possa alimentare Venezuela l'Europa lo escludono non abbiamo abbastanza petrolio peraltro e la discussione sul mondo che cambia è sempre una cosa intelligente e che dovremmo fare anche qua con qualche elemento di retorio io sono sempre preoccupato quando la discussione sulle cose del mondo che sono cose molto complesse è piegata diciamo alla battaglia politica quotidiana alla polemica politica la discussione sui BRICS che peraltro sono un pezzo della riorganizzazione delle sfere di influenza del mondo e più in generale sul mondo è una discussione che noi dobbiamo fare dobbiamo fare per provare a capire che cosa sta succedendo in un mondo che dal mio punto di vista pericolosamente diciamo sempre più fa della guerra uno strumento quasi ordinario di risoluzione dei suoi conflitti quasi sempre di natura economica commerciale di potere quando prima facevo anzi forse eravamo fuori onda ma insomma guardavo alla situazione nell'Indo-Pacifico sulla faglia di crisi che separa Taiwan dalla Cina e che molti commentatori quasi naturalmente descrivono come una quasi certa futura guerra tra Stati Uniti e Cina guardo un mondo che mi spaventa che dovrebbe spaventarci tutti allora il di marzo come si riorganizza il mondo dentro una gigantesca crisi delle meccanismi di governo codificati a cominciare dalle Nazioni Unite ormai totalmente purtroppo private di una capacità di intervento delle legittimate di qua e di là è un problema che tutti dovremmo porci perché altrimenti resta la guerra una sola cosa poi finisco perché volevo solo dire una cosa rispetto alle considerazioni di Fubini di prima io penso che la strategia delle armi come unica strategia non funzioni e non auspico il disinteresse girarsi dall'altra parte auspico un'iniziativa politica che non c'è sul piano diplomatico questa assenza mi pare condanni sempre più i civili che sono sempre le prime vittime ma anche i militari che sono mandati a morire da una parte o dall'altra a una tragedia infinita in Ucraina come altrove ma perché non la dovrebbero preferire se fosse possibile e più facile perché non dovrebbe essere preferita da tutti guarda io non sto a fare diciamo dietrologie perché c'è dietro quel potere che non la vuole è anche un dibattito che abbiamo già fatto eh ho capito però continua spinto da che cosa è legittimo dell'urgenza della realtà perché se la realtà avesse indicato un'altra soluzione saremmo stati tutti molto felici la verità però la verità però è che e qui c'è il punto decisivo se la tesi di Fubini è quella giusta e cioè che noi siamo di fronte al nuovo Hitler lei non lo pensa questo no non io penso una cosa che se è il nuovo Hitler e io non penso che siamo in questa condizione ma se è il nuovo Hitler non perché abbia nessuna ripeto tanto meno indulgenza verso il regime Putin ma se pensiamo che è Hitler allora bisogna che chi lo pensa e magari ha la possibilità poi di fare opinione scriva nero su bianco che la proposta è quella di andare in guerra prima che sia tardi perché come giustamente ricordava quando Hitler si prese mezza Europa ci fu troppa superficialità andare in guerra per andarselo a prendere questa è l'unica soluzione e siccome c'è qualcuno che lo pensa che dice che quasi ormai inevitabile pensare che nei prossimi vent'anni ci sarà un scontro diretto con la Russia bisogna dirlo è una maniera di distorcere quello che viene detto e ultra semplificare che è anche mi spiace non del tutto corretta allora rapidamente chiedo scusa Federico perché volevo c'era Marta ma ci metto un secondo allora Robert Gates ex segretario della difesa di Bush e di Obama Bush figlio e Obama ex direttore della CIA dice che se noi non facciamo niente cioè se noi non rincominciamo a sostenere l'Ucraina la Russia sfonderà indipendentemente che siano uno o due chilometri adesso la Russia dilagherà allora il punto è che il programma di Putin non è riprendersi l'Ucraina è cancellare la ferita della perdita dell'impero che lui vede come impero impero zarista ancora prima che impero sovietico dunque questo è un programma molto più destabilizzante poi dopodiché possiamo nasconderci dietro gli slogan Hitler e non Hitler è un programma molto più destabilizzante di quanto già non sia destabilizzante riprendere l'Ucraina ci sono ricette facili di fronte a un fenomeno del genere di una potenza nucleare ovviamente no ovviamente no ed è altrettanto chiaro che bisognerà arrivare a un punto politico e molto probabilmente gli ucraini non avranno mai le forze di riprendersi le province che hanno perduto e lo abbiamo visto l'anno scorso il punto è che adesso non c'è un'offerta di pace non c'è la capacità di dare all'Ucraina le garanzie di sicurezza di cui hanno bisogno questo è quello che volevo dire purtroppo i conflitti ci sono sempre stati sembra che adesso improvvisamente combattiamo le guerre e usiamo le armi se guardi le statistiche sui conflitti dal secolo scorso ad oggi ce ne sono state una quantità moltissime in Africa e dappertutto anche adesso ma non solo adesso e la novità è che abbiamo dal 1945 in poi una guerra che riguarda direttamente la sicurezza europea e secondo me il modo giusto per inquadrare Putin è questo Putin è un problema di fondo per la sicurezza europea non credo che sia il nuovo Hitler perché non penso che abbia la forza interna per poter spingersi al di là dell'Ucraina ma certamente mette in discussione la legittimità dei paesi baltici ha emesso un mandato di cattura contro la premiera Estone per la prima volta anche per noi culturalmente ci ritroviamo a che fare con la guerra in Europa sì perché noi consideriamo l'Ucraina dal 1945 in poi c'è stata la Jugoslavia abbiamo bombardato la Jugoslavia però in fondo era un'operazione a dei confini esterni e qua pensiamo che sia un'operazione che riguardi direttamente la sicurezza europea quindi questo secondo me è il grande cambiamento Putin secondo me vuole soprattutto rifarsi della grande umiliazione della perdita dell'Unione Sovietica certamente ha delle nostalgie imperiali ma quello che gli brucia davvero secondo me è il modo in cui l'Unione Sovietica è finita nel 1989 secondo lui per un'idiozia totale di Gorbachev che certamente lui non tollerava detto questo il negoziato ci sarà ma come in tutti i conflitti le guerre prima vanno combattute non c'è niente da fare qua l'ipotesi più probabile mi sembra resta quella di uno scenario di tipo coreano o tedesco 1955 ci sarà una sorta di spartizione che non possiamo riconoscere per il diritto internazionale perché è avvenuta con un'aggressione militare ma di fatto l'Ucraina non sarà più in grado di tornare ai confini del 1991 ma riuscirà a sopravvivere come paese indipendente nella sua parte occidentale che noi dovremo tutelare sia sul piano economico che della sicurezza la domanda è molto importante però questa di Marta Suma anche di Fubini io non volevo io però le chiedo se lei ritiene che sia forse è capitato anche al contrario diciamo le chiedo se però lei condivide che sia questa guerra una minaccia per l'Europa su questo certamente perché coinvolge l'Europa e il suo futuro non militarmente non militarmente ma rispetto alla sua tenuta alla sua prospettiva alla sua capacità di svolgere un ruolo nel mondo cosa che l'Europa non sta facendo quindi sta ad oggi diciamo drammaticamente perdendo non un'occasione perché la guerra non è un'occasione una tragedia ma diciamo questa sfida la sta perdendo però la cosa che ha detto Marta Suma poco prima Federico Fubini sono molto importanti io vorrei che non diciamo non passassero così nel nostro dibattito perché entrambi da una posizione molto diversa mi hanno detto credo non voglio quasi certamente l'Ucraina non riprenderà quello che ha perso ma era proprio quello che ha perso ma questo di questo stiamo parlando sì di questo stiamo parlando allora lei dice è stato inutile combattere questa è la sua domanda no non voglio dire nemmeno questo pongo un problema che guarda domani non pongo un problema per dire avevo ragione io perché non è quello che mi interessa c'è una guerra dovrebbe finire la domanda però è molto importante perché siccome questa tesi è la tesi che circa ovunque quella che i capi di stato dicono nelle telefonate sbagliate o nelle telefonate vere nel rapporto tutti fanno questa discussione tutti a microfoni spenti allora la domanda che io pongo è io pongo questa domanda qual è il punto su cui si prova a costruire quella mediazione quella non riconosciuta su piano di diritto ed è ovvio che sia così e su cui si prova a consolidare un elemento di resistenza il punto è quando si dimostra a Putin che non può vincere con la forza e per arrivare a quel punto bisogna aiutare gli ucraini anche con le armi molto più di quanto noi europei stiamo facendo questa risposta di Fubini risposta di Dessù a questa domanda è la stessa quando c'è un equilibrio sul terreno che permette quel tipo di soluzione diplomatica domanda quando ci sarà io credo dopo le elezioni americane perché non vorrei che Putin nel frattempo continui a mangiarsi territori la tua risposta a questa domanda Luca Steinman gli aiuti occidentali e l'Ucraina sono fondamentali per per spingere gli attacchi russi nel russo questo non c'è dubbio e penso che questa sarà una domanda che rimarrà molto lunga nel senso che anche quando si arrivasse a una trattativa questa trattativa molto difficilmente anzi penso che sia impossibile che porti a un arabistizio ma più che altro a un cessato del fuoco eventuale che potrebbe esserci dopo le elezioni americane più o meno circoscritto lungo una linea del fronte lunghissima che va da Fersol fino al nord dell'Ucraina fino a quasi fino alle porte della regione di Kharkiv quindi ecco dobbiamo entrare nell'ordine di idee che anche qualora ci fosse una discusione diretta o indiretta tra Russia e Occidente tra Russia e Ucraina comunque il conflitto andrebbe avanti magari meno con gli strumenti militari ma sicuramente con quelli politici e diplomatici o di intelligence su questo non c'è dubbio questa guerra combattuta su varie dimensioni sarà molto molto russa Enrico Borghi so che deve andare via però volevo farne una domanda su un'altra un'altra questione più politica rapida purtroppo perché abbiamo sempre tutti i nostri vincoli pubblicitari e deve andare via la domanda è questa il secondo mandato di Ursula von der Leyen ieri questa decisione è stata resa pubblica vorrei sapere come la vede se è diciamo nei disegni di Italia Viva se riuscirà a passare la soglia alle elezioni europee poi di votare per Ursula von der Leyen ma le prossime elezioni europee da questo punto di vista a nostro giudizio avranno una polarizzazione fra europeisti e riformisti da un lato e sovranismo nazionalista dall'altro e quindi sarà fondamentale che le famiglie che si richiamano all'europeismo e al riformismo escano dalle urne con un rafforzamento di questo tipo di percorso dopodiché il negoziato sarà molto legato al risultato di queste elezioni ma quello che è chiaro anche alla luce delle discussioni fatte in studio è che l'Europa così non può rimanere in stallo occorre un salto di qualità che noi definiamo Stati Uniti ed Europa e che dentro questa cornice veda anche la costruzione di un pilastro europeo della difesa e della sicurezza quello che giornalisticamente viene definito come l'esercito europeo che naturalmente si deve imperniare dentro una collaborazione rafforzata con la Nato ma che deve trovare una propria significativa Von der Leyen potrebbe essere la politica di un Von der Leyen bis potrebbe andare in questa direzione Lei ha annunciato la volontà di creare un portafoglio alla difesa peraltro lei arriva da un'esperienza di un gabinetto di difesa all'interno del governo tedesco ma al di là delle singole persone delle singole proposte quello che va capito è che se noi non facciamo un salto di qualità nella direzione di una soggettività anche in termini di difesa e di sicurezza da parte dell'Europa non avremo la possibilità di incidere politicamente perché la pace si conquista e si costruisce anche attraverso lo strumento della deterrenza diversamente siamo alla retorica Grazie Enrico Borghi ci fermiamo per la pubblicità restate con noi a un momento anche Nicola Fratoianni deve andare via per un nobile scopo nel senso va a manifestare si apre il processo per finalmente ai quattro egiziani che sono finalmente sotto processo e quindi andrà lì dopo essere stato anche alla fiaccolata per Navalny grazie ai nostri ospiti politici restano con noi Marta Dassù Federico Fumini e Luca Steinmer restate con noi di nuovo in diretta e allora ancora da dire perché vorrei farvi sentire ieri era ospite dell'aria che tira di David Parenzo Nadana Friedrichson giornalista russa che naturalmente ha portato rispetto al caso Navalny la linea russa ne sentiamo un frammento per parlare ancora delle narrazioni e della propaganda anche in questo caso Alexei Navalny ha dichiarato che lui è figura politica nella vita della Russia c'era nelle opposizioni c'erano persone che seguivano naturalmente Alexei Navalny invece è andato in prigione perché ha violato la legislazione della federazione russa il potere della federazione russa non aveva nessuna relazione con questo fatto che lui è andato in prigione mi potete per favore spiegare perché un grandissimo paese che ha anche armi nucleare dovrebbe fare conto che un oppositore è ammazzarla non c'è nessuna logica ma perché voi fate proteste contro quello che è successo con Navalny come cambierà la vostra vita il vostro problema economico questo problema legato alle situazioni interne dell'immigrazione allora mi avevano colpito queste parole Marta Dassù e questa doppia argomentazione da una parte di un paese così grande la seconda è la seconda come è che voi ve ne interessate come è che andate con le fiascole punto che evoca la posizione della parte dell'opinione pubblica occidentale sia in Europa che negli Stati Uniti che dice vabbè insomma lasciamo che 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 la guerra in Ucraina perché poi tutto questo problema del rapporto sulla Russia si riflette naturalmente sull'atteggiamento dell'Ucraina e c'è un atteggiamento di chi dice ma che se la vedano loro fondamentalmente non cambia nulla dice lei a voi delle vostre vite sì perché il regime debba avere a che fare con il dissenso perché è un regime assolutista che si basa poi sul terrore in fondo la prima fase di Putin perché poi Putin è al potere dal 2000 era stata una fase relativamente più tollerante con anche una traiettoria economica più incoraggiante da un certo momento in poi Federico ha già evocato il discorso a Monaco per quel che riguarda la politica estera ma anche in politica interna dopo le grandi proteste del 2011 2012 c'è veramente un giro di vite e allora una persona come Navalny è comunque un elemento di disturbo ieri Joseph Borrell che in genere parla a sproposito secondo me l'altro rappresentante della politica estera europea ha invece usato delle parole a proposito che sono è stata la morte lenta per responsabilità del regime del principale volto dell'opposizione possibile di una Russia diversa possibile questo è il messaggio che Navalny comunicava e che Putin assolutamente ha voluto stroncare questo mi sembra evidente lo sta uccidendo di fatto dal 2020 perché l'avvelenamento di Tomsk prima e poi la condanna a 19 anni su delle accuse assolutamente immotivate in quel tipo di regime con quelle punizioni di gulag penso che lo possiamo definire così è è davvero è davvero la decisione di estirpare l'ultimo volto di un dissenso russo che ormai fa fatica ad esprimersi perché la gente è fondamentalmente terrorizzata questo volevo chiedere ancora a Luca Stein ma poi una domanda per Federico Fubini Luca il dissenso ormai è solo fuori dalla Russia effettivamente a livello organizzato è molto difficile trovare ormai il dissenso partitico per il memoria dentro la Russia a Putin e al governo di Putin a livello organizzato è soprattutto fuori dal dal paese naturalmente ci sono tantissime persone dentro la Russia che osservano che vedono cosa sta succedendo io vorrei sottolineare un aspetto molto importante per una discrepanza che c'è tra generazionale tra molti russi in un'altra di generazioni più anziane e invece molte nuove generazioni molti ragazzi che perlomeno avendo accesso ai social avendo accesso appunto a internet in maniera libera ottengono tutta una serie di informazioni di percezioni che invece le persone più anziane generalmente non ottengono guardando invece soltanto le tue di Stato o i canali per il governo russo quindi una grande sfida per il futuro sarà a mio avviso vedere come si comporteranno i giovani e le nuove generazioni rispetto al governo russo rispetto alla politica russa ecco questo è sicuramente da tenere in grande attenzione questo non andando via c'è stato un grande esodo in parte legato al problema della guerra e in parte legato al problema della riconversione verso un'economia di guerra per esempio tutta la generazione ha cercato di andarsene Luca no? Sì i paesi per esempio adiacenti alla Russia tipo l'Armenia sono finissimi di giovani russi che se ne sono andati per non parlare di Israele con l'inter russa appunto apparente a quel mondo al mondo dell'IT è davvero molto molto numerosa e questo è un altro punto fondamentale da citare ecco dobbiamo interrogarci la Russia sta perdendo una parte di sua popolazione che se ne sta andando io direi assolutamente in parte sì c'è anche da calcolare una parte di questa popolazione giovanile è però tornata a parte piccola relativa ma nei primi mesi ha fatto rientro in Russia alcuni dicendo di avere avuto difficoltà nella propria vita al di fuori appunto dei confini della Russia quindi torniamo al discorso di prima una partita per valorizzare questa propietà un formato o meno della Russia fondamentale per capire la Russia e dovranno andare le relazioni tra i paesi che ospitano questo e la Russia stessa le agenzie stanno rilanciando delle dichiarazioni di Matteo Salvini alla radio nelle quali dice così sulla morte di Alexei Navalny è giusto fare chiarezza c'è un morto e bisogna farla assolutamente ma la chiarezza la fanno i medici e i giudici non la facciamo né io né altri sicuramente il decesso del dissidente russo non è stato causato dalle emissioni di CO2 in Lombardia e poi dice sulle contestazioni in piazza ieri contestazioni da parte della sinistra identifica quella piazza così ci sono tutti i giorni ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti Federico mi sembra comunque rimanere nella sfera di concedere perlomeno il beneficio del dubbio che era stata quella iniziale del vice segretario Crippa della Lega o secondo te questo è sufficiente per in fondo è abbastanza simile alla prima dichiarazione che ha fatto Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio chiedendo che si facesse piena luce però senza indicare responsabilità né del regime russo né ipotesi di omicidio e in questo devo dire la reazione di Giorgia Meloni e adesso di Matteo Salvini sono state molto diverse tu dici anche Giorgia Meloni non è stata così netta la sua reazione è stata chiedere che si facesse luce dunque è stata molto simile a questa di Matteo Salvini dopo il governo italiano attraverso Tajani attraverso l'ambasciatore in Russia si perché l'ambasciatore in Russia mi dispiace perché non ho più recuperato la fotografia invece volevo mostrarla su uno dei quotidiani e chiedo scusa non ricordo su quale ma comunque c'era proprio la foto del ambasciatore russo che è andato a appoggiare una rosa e a rendere omaggio a Navalny quello non era un gesto scontato ed è un gesto sicuramente della Farnesina del governo però le dichiarazioni di Giorgia Meloni sono state di questo tenore non ci sono state dichiarazioni di Meloni e di Salvini che indicano nel regime russo la responsabilità della morte di Navalny questo è un fatto scusami Federico perché Salvini le agenzie stanno rilanciando un completo pensiero affidato alla radio lui dice capisco Giulia Navalny ma la chiarezza la fanno i giudici che è una frase ancora più sì va bene diciamo se uno si fida come dire dello stato di diritto in Russia evidentemente questa reazione ha un senso se uno pensa che lo stato di diritto in Russia sia scomparso molti anni fa forse ne ha meno ma non tocca a me giudicare Salvini secondo me c'è un punto politico abbastanza interessante in questa cautela di Salvini e vedremo in che misura di Meloni se questa cautela si confermerà due punti uno entrambi sono consapevoli che le loro basi elettorali e siamo in una campagna elettorale sono assolutamente fredde per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina e sono potenzialmente interessate ad avere un rapporto costruttivo dell'Italia con la Russia anche la Russia di Putin e due chiaramente guardano in prospettiva quello che potrebbe succedere negli Stati Uniti tra qualche mese vedono che Trump in questo momento sembra avere il vento in poppa e probabilmente diciamo in qualche modo gli inglesi dicono hedge in their bets cercano come dire di distribuire le loro scommesse le loro puntate politiche in direzioni diverse chiaro a proposito dell'economia c'è un grande tema delle sanzioni che non starebbero funzionando Marta Dassù e di questa economia che in realtà convertendosi in produzione di armi però sta funzionando una cosa sì insomma se il funzionamento delle sanzioni viene correlato alla capacità di combattere in Ucraina le sanzioni funzionano poco evidentemente l'impatto sull'economia della Russia è comunque un impatto importante a cui la Russia ha risposto trasformando la propria economia in un'economia di guerra Putin ha anche fatto delle battute dicendo vabbè se riduciamo il peso del settore energetico meglio e cose di questo genere un tema importante secondo me e qua magari Federico Fubini può dire qualcosa di più interessante di quanto possa fare io è la famosa questione delle riserve finanziarie congelate della Russia in Europa e degli interessi accumulati su queste riserve se poter usare o meno questi interessi che sarebbero consistenti le riserve sono circa 300 miliardi di dollari mi sembra in delle clearance houses in Europa clear house c'è un grande dibattito perché una parte degli europei è contraria sostenendo che questo metterebbe a rischio l'idea di poter depositare dei soldi in Europa e in Euro se possono essere confiscati io sarei penso che dovremmo usare quelle riserve tu Federico cosa velocissimo perché dobbiamo una pubblicità però ci sono due opzioni diverse gli americani e Draghi propongono di sequestrare le riserve congelate in toto gli europei vogliono usare i proventi dei reinvestimenti delle riserve stiamo parlando di una dimensione tra 200 miliardi e 2 miliardi riutilizzarli anche contro la Russia la confisca di tutte le riserve per la ricostruzione dell'Ucraina questo è anche un tema interessante ci torneremo come vedete come torneremo anche a parlare ovviamente di Israele oggi non lo abbiamo fatto neanche ieri ma questa settimana abbiamo deciso di dedicarla principalmente all'Ucraina sia per il caso Navalny sia per il fatto che sono due anni venerdì sabato saranno due anni di guerra dall'invasione russa restate con noi pubblicità allora di nuovo in diretta do il buongiorno e il benvenuto è Michela Ponzani storica insegna all'università Tor Vergata è rimasto con noi Federico Fubini che è un po' protagonista di quest'ultima parte della trasmissione insieme alla professoressa Ponzani per il libro che vi annunciavo all'inizio si chiama L'oro e la patria ieri c'è stata un'anticipazione di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che ci dà questa chiave questo libro racconta di un eroe dimenticato Niccolò in trono è stato commissario di Banca Italia per tantissimi anni durante il fascismo e poi dopo ed è l'uomo che ha salvato l'oro degli italiani o comunque ha contribuito a fare questo ma cominciando questa inchiesta Federico Fubini ha scoperto delle carte inedite che raccontano come durante il fascismo come Mussolini in realtà quell'immagine sì dittatore ma come dire specchiato nella morale nella conduzione diciamo della vita privata dal punto di vista dei soldi e delle gestioni finanziarie in realtà non era così perché ha fatto delle appropriazioni assolutamente indebite lui e il suo entourage descrivendo quindi questo regime non soltanto nella coda dopo il 43 ma anche prima come piuttosto rapace e corrutto quindi un aspetto in più allora la professoressa Ponzani per spiegarci che cosa può significare questo ma prima Federico Fubini chiederei che cosa racconta di nuovo qual è il lato nuovo e che queste carte illuminano 80.000 pagine una quantità enorme che questo commissario si portava a casa questa è la storia beh sì probabilmente non lo diceva però aveva l'abitudine Niccolò Introna che è stato un dirigente della Banca d'Italia per decine di anni ed era antifascista dunque un po' accantonato rispetto all'establishment della Banca d'Italia di portarsi a casa tutte le carte lui era un ispettore faceva la vigilanza delle banche e dal suo punto di vista vedeva tutta la corruzione che c'era nel regime perché molta della corruzione passava attraverso le banche e cercava di combattere a volte con efficacia perché diciamo non tutto riusciva a essere coperto e leggendo queste 80.000 pagine mi sono reso conto che ci sono delle appropriazioni in debite sicuramente di tanti gerarchi che viene fuori l'immagine di un regime che è effettivamente una cleptocrazia un po' come oggi diciamo la Russia di Putin diciamo la malversazione veniva in maniere diverse perché nella Russia di Putin c'è il petrolio c'è l'acciaio lì c'erano le banche c'erano le tangenti altre cose e soprattutto ho individuato una singola operazione che ricostruisco passaggio per passaggio del denaro per cui Mussolini sostanzialmente fa svuotare i conti del governo subito dopo l'8 settembre e fa trasferire gran parte dei soldi su un conto del figlio che ho ritrovato tiene questi soldi sul conto del figlio Vittorio che poi vengono svuotati quando Vittorio e Benito Mussolini fuggono al momento della disfatta dunque quello è evidentemente un caso di appropriazione sostenuta e difesa ma quella non poteva essere sull'onda di una emergenza diciamo personale beh diciamo devo fare l'avvocato no no certo tutti abbiamo le nostre emergenze personali però scrivere al governatore della Banca d'Italia indicando guarda lì ci sono 9,9 milioni consegnali a mio figlio in una valigetta al Viminale e poi apri un conto con un interesse attivo a favore di mio figlio che è circa tre volte l'interesse ordinario riconosciuto dalla Banca d'Italia e lasciarli là diciamo è un buon modo di gestire le emergenze soprattutto colpisce la disinvoltura con cui lo fa e la disinvoltura con cui il governatore della Banca d'Italia che è stato un suo nominato degli ultimi 12 anni un suo protetto degli ultimi 12 anni a seconda tutto questo naturalmente la domanda che uno si pone è se questa che ho trovato è l'unico caso in cui lui ha messo le mani nei conti o uno dei tanti che è emerso perché poi lì c'è stato un processo al governatore della Banca d'Italia di epurazione dopo la guerra professoressa Ponzani che cosa ci dice diciamo questo tipo di questo lato del fascismo del regime fascista ci dice che il regime fascista era un regime molto corrotto che Mussolini era assolutamente abituato a gestire flussi di denaro illecito ma questo era già diciamo questo è come dire trovare delle carte che raccontano e mostrano questa evidenza questo si sapeva già la domanda è che il livello di corruzione è stato meno illuminato lo sapeva per esempio Giacomo Matteotti Giacomo Matteotti viene ucciso non solo perché ha svelato i brogli elettorali delle elezioni del 6 aprile 1924 in un discorso clamoroso pronunciato il 30 maggio in Parlamento alla Camera dei Deputati viene ucciso perché ha scoperto abbiamo le carte gli storici oggi hanno le carte a disposizione che sono conservate tra l'altro all'estero infatti sarebbe interessante capire se in Banca Italia l'archivio storico della Banca d'Italia ci sono dei riscontri su questo Matteotti aveva scoperto una rete di tangenti tra la famiglia Mussolini e la Sinclair Oil che era una compagnia petrolifera americana c'era stato un accordo tra il governo italiano e la Sinclair Oil per permettere a questa compagnia di sfruttare il territorio italiano per ricavare delle ricchezze per capire se c'erano dei giacimenti petroliferi la cosa interessante che emerge da queste carte ma anche da quello che ci stava dicendo prima l'autore di questo interessantissimo libro è che il regime più nazionalista che aveva esaltato il nazionalismo esaltato la patria era pronto a svendere la patria i beni della patria in nome di arricchimenti personali in nome di soldi sostanzialmente ripeto gli storici hanno le fonti e le carte a disposizione tra l'altro queste carte invece non si erano non erano mai state studiate perché la figura di Niccolò in trona confesso la mia ignoranza non lo avevo mai sentito nominare un personaggio e invece aveva fatto appunto a questo profilo eroico che Federico Fubini ci racconta sul suo nome è calato un silenzio è calato un silenzio lui diciamo era stato sempre tenuto come numero 3 della Banca d'Italia fondamentalmente perché era un banchiere centrale esperto sapeva come gestire la macchina della Banca d'Italia numero 1 numero 2 erano nomine politiche non sapevano fare dunque non lo potevano in qualche modo mandare via quando arrivano gli americani si rendono conto che lui è l'unico non compromesso dunque lo nominano commissario straordinario pieni poteri più di un governatore perché non aveva neanche il direttorio e in quel momento lui compie delle azioni che non gli saranno mai perdonate ma non dai fascisti da chi è venuto dopo e quali sono queste due azioni sono state essenzialmente due portare la Banca d'Italia a parte civile per il furto dell'oro da parte dei nazisti con come dire la compartecipazione di alcune figure compromesse col fascismo da un lato dunque quest'idea lui ha violato la legge non scritta delle burocrazie cane non morde cane e questo non gli è stato perdonato dall'inizio e l'altra cosa che è ancora più grave che non gli è stata perdonata che lui aveva molto ben presente che cos'era il corporativismo il consociativismo dell'economia fascista il controllo della politica sulle banche sulle imprese senza volere stravolgere l'economia italiana in pochi anni però aveva iniziato a lavorare con il governo per cercare per esempio di far sì che i politici non potessero nominare i consigli di amministrazione delle banche e questo non gli è stato assolutamente perdonato è stato mandato via dopo sei mesi è stato poi mandato via dalla Banca d'Italia poco dopo e addirittura dopo che è stato mandato via dalla Banca d'Italia hanno cercato di togliergli la pensione Menichella e Inaudi per non fare nomi e questo è veramente è la parte incredibile di questa storia ma queste le hanno tolte la pensione appunto è quello che colpisce di questo lato della questione tu studiavi mi dai 20 secondi 20 secondi e poi volevo sentire ancora la professoressa assolutamente perché alla fine uno si può chiedere che cosa resta del fascismo nell'Italia di oggi e non sto parlando di politica secondo me quello che resta del fascismo nell'Italia di oggi è un aspetto profondamente culturale negli italiani cioè l'idea che le persone che pensano con la propria testa che sanno muoversi in maniera e pensare in maniera indipendente nelle organizzazioni invece di una risorsa sono potenzialmente un problema da isolare e da scartare che è una delle ragioni per cui tanti italiani laureati con qualifiche vanno all'estero è una delle ragioni di impoverimento culturale del paese questo aspetto culturale del fascismo di cui ha sofferto in trona che è stato fatto pagare in trona noi lo vediamo diciamo migliorato enormemente e continua a migliorare però rimane in parte della cultura e nei comportamenti in Italia allora volevo chiedere intanto se è d'accordo su questo e anche sulla analogia con il regime autoritario cioè se la corruzione somiglia come diceva all'inizio Federico Fubini del fascismo insomma in quegli anni si somiglia in qualche modo al regime quotidiano tutti i regimi hanno questo livello di corruzione hanno questo livello di corruzione devono cercare di tenere il potere di conquistare il consenso il regime totalitario fascista perché il fascismo è stato un totalitarismo aveva anche l'ambizione di plasmare l'uomo nuovo di forgiare al culto del nazionalismo al culto della patria tutta questa bella retorica che poi al riscontro dei fatti e della documentazione che poi emerge dagli archivi non ha molto senso sono d'accordo con questo discorso dell'eredità del fascismo a causa forse di una vulgata che circola un po' nel dibattito pubblico gli italiani ancora hanno una visione molto edulcorata di ciò che è stato il regime fascista quasi un regime da operetta autoritario sì ma non violento come il nazionalsocialismo tedesco che in fondo aveva fatto anche cose buone ecco forse la ricerca storica proprio attraverso la documentazione riesce a smontare questi miti perché al di là di questa immagine edulcorata resta un regime formalmente corrotto molto corrotto che e questa corruzione viene svelata dagli antifascisti fin dalla prima ora Matteotti è molto interessante questo aspetto e sicuramente con le celebrazioni per i cento anni sarà un aspetto immagino ancora più approfondito speriamo che venga fuori dal dibattito perché attualmente non è così su questo beh gli storici su questo punto hanno fatto luce sul fatto che Matteotti sia stato ucciso non solo per lo scandalo elettorale ma anche per il sistema di corruzione che aveva svelato magari se ci fosse un po' più di attenzione alle celebrazioni anche con finanziamenti concreti per la ricerca non sarebbe male visto che sono passati comunque cento anni dall'uccisione di quello che fu il mito poi degli antifascisti e l'ispiratore della lotta antifascista della prima e della seconda generazione allora mi sembra che insomma ci siano molti profili interessanti anche in come dire di sviluppo però un'ultima domanda una risposta breve devo dare la linea a Andrea Pancani però volevo farla a Federico Fubini la ricerca era cominciata in un modo e ti sei imbattuto in queste carte o sapevi già cosa andare a cercare e come ti è venuta la curiosità per Nicolò in trono mi è venuta la curiosità perché non avevo mai sentito il suo nome eppure era stato dirigente per così tanti anni è stato quindi qualcuno ti ha parlato di lui qualcuno mi ha parlato di lui e ho scoperto che aveva un nipote cioè era nonno di qualcuno che era ancora in vita purtroppo adesso è morto Massimo Corradini quando l'ho conosciuto aveva 88 anni una memoria meravigliosa di suo nonno era stato il custode delle carte che aveva poi consegnato alla Banca d'Italia e parlando molto con lui lui aveva il ricordo di quell'epoca aveva visto Azzolini aveva raccolto gli sfoghi del nonno quando l'avevano buttato fuori dalla banca quando si arrabbiava quando al consiglio di amministrazione dell'Iri ne avevano fatta un altro e lui si era talmente arrabbiato che gli era venuto un ictus e gli era paralizzato il braccio sinistro mi ha raccontato la sua infanzia e le carte su Mussolini il 43 e gli altri gerarchi le hai trovate per caso in un certo senso la lettera di Mussolini era nelle carte del processo a Azzolini del dopoguerra che lui conservava a partire da lì ho detto devo andare a cercare sostanzialmente nei libri dei conti delle filiali della Banca d'Italia dove avevano spostato i soldi allora ho chiesto alle filiali se per caso c'erano questi libri e loro sono stati bravissimi veramente li devo ringraziare e hanno trovato dopo giorni e giorni di ricerca proprio nei libri dei conti in banca del 44 tutti i soldi che Vittorio Mussolini poi si è portato via e probabilmente deve essersi portato in Argentina quando è fuggito grazie Federico Fubini grazie a Michela Ponzani per questo squarcio anche sulle possibilità entusiasmanti della ricerca d'archivio Linea Andrea Pancani per Coffee Break noi ci vediamo domani e domani parleremo di sicurezza sul lavoro e del drammatico incidente di Firenze e delle sue implicazioni a domani buona giornata e grazie per essere stati con noi